Negli anni 70-80 in un paese della Calabria la gente vive trascorrendo le giornate ancora come nei tempi passati, cioè lavorando con tanta fatica la propria terra o quella dei loro padroni. L'associazione Sole Film di Calabria e il regista Carmelo Lio presentano il film L'Ultima Figlia Schetta. L'odio, l'invidia, le gelosie e la prepotenza potranno essere vinte e in questa cornice che si sviluppa la vicenda di una famiglia che è una figlia schetta. Da mercoledì 20 febbraio alle ore 14 su Melito TV e in rebrica la sera alle ore 21. L'Ultima Figlia Schetta, un film di Carmelo Lio.